Si comincia innanzitutto dal dare il benvenuto a tutti in questo storico salone papale che ha visto la presenza di diversi pontefici nel cuore del Medioevo, soprattutto il rapporto a San Francesco d'Assisi che era in quel periodo storico in contatto con il Papa per definire la sua regola e per un'altra circostanza particolare che è la canonizzazione qui in questa sala verosimilmente avvenuta di San Domenico di Guzman. Partirei da una persuasione che è presto detta, la famiglia non è un'invenzione stagionale perché serba in sé l'humus, cioè la terra, dove si imparano le grandi differenze. Come scriveva Chesterton, la famiglia è una bella istituzione proprio perché non è armoniosa, è sana proprio perché contiene così tante discrepanze e diversità. Tra queste differenze, discrepanze, ne balzano in evidenza soprattutto due, la differenza sessuale, padre e madre e quella generazionale, genitori e figli. Per questo la famiglia risulta irrinunciabile a dispetto delle sue molteplici trasformazioni storiche, patriarcale ieri e oggi diremmo nucleare. Se se ne parla, e sottolineo questo incontro si svolge alla vigilia dell'incontro mondiale delle famiglie che vedrà a Filadelfia il Papa con tantissime famiglie riunite, è per la semplice ragione che ogni epoca storica è chiamata a ripensare la famiglia, preservando l'humus originario e cercando di interagire con le trasformazioni della società. E questo perché la famiglia resta a tutt'oggi l'unica maniera grazie alla quale si esce dall'isolamento. Quello che conta, e raccolgo l'invito del sindaco, è evitare toni melenzi o astratti, perché la famiglia è un luogo reale che non si presta né a romanticismi né a ideologie, ma va vissuta nella sua esperienza concreta e paradossale. E vorrei qui condividere con voi tre semplici pensieri. Il primo, la famiglia resta l'ostacolo naturale più forte all'individualismo. Il secondo pensiero è che l'individualismo è ciò che cancella le differenze. E il terzo pensiero, quello conclusivo, è che la famiglia risveglia dalla apatia. Vorrei brevemente svilupparli. La famiglia anzitutto come l'ostacolo naturale più forte contro l'individualismo. Già Romano Guardini, negli anni 50-60, scriveva che secondo le più diverse prospettive aveva oggi una tendenza a mettere in discussione la famiglia, anzi a dissolverla, perché di fatto essa costituisce l'ostacolo naturale più forte contro l'assorbimento dell'individuo. Oggi forse avvertiamo più chiaramente la lenta erosione della famiglia in un sintomo preoccupante, la stanchezza diffusa. Le generazioni passate non conoscevano l'uomo stanco, minacciato dallo stress e nell'impossibilità di trovare se stesso. Oggi viviamo in una società del disagio. Siamo stati stregati dall'idea che tutto è possibile e a portata di mano. Yes, you can. Ma alla prova dei fatti, lo scarto tra l'ideale sognato e la realtà in sé sviluppa frequentemente disimpegno, noia, ansia da prestazione. Come sarei felice se non dovessi essere più felice? Si potrebbe dire parafrasando una battuta di Woody Allen. Il lato oscuro di questa felicità che si pretende garantita in automatico è stata, senza accorgersene, proprio l'enfasi sull'autonomia. L'uomo di cent'anni fa diventava autonomo col tempo attraverso un tragitto che prevedeva tappe e riti da passare per emanciparsi, ma non senza conoscere nevrosi di vario genere. L'uomo di oggi non conosce la nevrosi, ma la depressione. appare ancora lattante, dotato di ogni diritto, interessato al pari degli adulti solo a ciò che produce benessere, ma col tempo dovrà rendersi conto che certe conquiste della libertà hanno un costo. In ogni caso che la vita è un cammino, con le sue lentezze, le sue devianze e i suoi passi perduti, ma soprattutto che si va avanti solo se si entra in relazione con altro da sé, se si fa cioè esperienza di qualcun altro rispetto al proprio io. Il testo biblico delle origini della creazione, Genesi 1-2, è illuminante al riguardo. Dio prende una costola dell'uomo e richiude la carne. Entrare in relazione, presuppone così una perdita, qualcosa in meno. Solo se si intacca l'integrità, se si rompe l'uovo, si spezza il narcisismo originario. Questa esperienza di rottura, che non si produce senza uno shock, si chiama alterità. Ben lo sa il bambino, che è preso da vertigini quando scopre che la mamma non è lui. Il tempo dell'individualismo in cui siamo nati e cresciuti ha lentamente eroso il senso dell'altro, anzi ha instillato l'idea che l'individuo diventa tale nella misura in cui si allontana dal collettivo e ci si divincola da qualsiasi legame. Un'entità autonoma, autosufficiente, indipendente, questo sarebbe l'ideale, il sogno da inseguire. Ma la realtà non è così. Solo grazie all'alterità si costruisce l'identità di una persona e questo lavoro che si avvia dai primissimi anni è ciò che consente di ospitare in se stessi un luogo per l'altro. Si capisce che il virus dell'individualismo infetta tutto. Sentiamo il bisogno degli altri per vincere la solitudine, ma a patto che stiano al loro posto, che non impongano vincoli, che non creino restrizioni di sorta. Andiamo così verso relazioni tascabili, dove gli scambi sono segnati dall'intensità, dalla spontaneità e dalla brevità, mentre va evitato accuratamente il rischio della profondità e della durata. Sin da piccoli ci si convince che occorre passare il meno possibile attraverso l'altro e, al contrario, imparare a farne a meno per diventare se stesso, self-made man, artefici di se stesso. Non sorprende poi che, allevati a questa presunta autosufficienza, si rischi, nel concreto, o la dipendenza affettiva o la fobia sociale, che sono le due facce della stessa medaglia, e cioè la mancanza dell'altro, che evita il confronto e lo scontro per abbandonarsi all'isolamento e alla tristezza. Peraltro, la tecnologia digitale rischia di essere, suo malgrado, una potente alleata di questi rapporti protetti a distanza. Il cellulare è solo un piccolo oggetto tascabile, ma anche una potente apertura sul mondo. Peccato che spesso si privilegino le connessioni alle relazioni. E vengo al secondo pensiero. Se l'individualismo è ciò che la famiglia, in qualche modo, combatte, questo accade perché l'individualismo è precisamente ciò che cancella le differenze. E qui vorrei far riferimento a due differenze che ho già evocato, che secondo me sono quelle che garantiscono proprio a questa disarmonia di rendere la famiglia una realtà paradossale, ma positiva, generativa. La prima differenza al rischio di fronte all'individualismo è la differenza tra maschio e femmina, che finisce così col diventare irrilevante. Ci vorrebbe ben altro tempo per descrivere la parabola dei rapporti tra i sessi che ha conosciuto negli ultimi decenni delle trasformazioni significative. Basterà dire che con il ventesimo secolo la gerarchizzazione dei sessi tipica della cultura patriarcale, a vantaggio di quella maschile, è entrata in crisi. Ma questa positiva presa di coscienza ha prodotto il passaggio da modello di una differenza ineguale a quello di una somiglianza ugualitaria. Qui si inserisce la dibattuta questione del gender. Nella forma attuale, nella sua fase più recente, si arriva a misconoscere il significato del dato naturale e biologico lasciato alla libera e mutevole interpretazione. Il lavoro psicanalitico rivela però che il vacillare delle identità sessuali non è privo di effetti. Uomini e donne si scoprono incerti nell'assegnazione del loro ruolo rispettivo, sfrattati dalla sicurezza che ne derivava, colpiti entrambi da una sorta di indecisione, di annebbiamento, di illegittimità di fondo. Fino alla sconsolata affermazione di una donna in una seduta dalla psicanalista, che è in qualche modo emblematica di tante vicende contemporanee. Dice la donna, bisognava rompere lo schema di domesticità ancestrale. Oggi io sono più libera di altre donne, ma anche più sola. L'aver ridotto la differenza a una questione puramente anatomica, anzi ad una variabile sciolta da ogni prospettiva biologica, significa aver invertito le parti senza uscire da una mortificante distorsione. Prima, un tempo, si riconosceva solo il dato naturale dimenticando quello culturale. Oggi si sceglie quello culturale cancellando quello naturale. Ma ci sarà la possibilità di non dissociare la realtà che è una e ricca nella sua complessità. L'altra differenza che è stata attenuata dall'individualismo, fino quasi ad essere cancellata, è quella tra le generazioni, che ha tra l'altro decretato la fine della autorità. Già nel 1959 la Arendt scriveva, che gli adulti abbiano voluto disfarsi dell'autorità significa solo questo. Essi rifiutano di assumersi la responsabilità del mondo in cui hanno introdotto i loro figli. Quasi che ogni giorno i genitori dicessero, in questo mondo anche per noi è un mistero come ci si debba muovere, che cosa si debba sapere, quali talenti possedere. Dovete cercare di arrangiarvi alla meglio e in ogni modo non siete autorizzati a chiederci conto di nulla, siamo innocenti, ci laviamo le mani di voi. Si è prodotto così una sorta di disimpegno educativo, i cui effetti non hanno tardato a manifestarsi sulle giovani generazioni. Iperattività, disturbi fobici, aumento della violenza, delinquenza giovanile e in modo più ampio una predisposizione alla depressione e alla dipendenza di vario genere. È sintomatico che proprio i figli cresciuti in nome dell'autonomia siano quelli segnati di più da forme di dipendenza patologica. Il bambino non è più orientato verso l'adulto per imparare, ma si interpreta come un pari grado che contratta i suoi spazi, eludendo la relazione asimmetrica tra genitori e figli e spesso imponendo un sottile ricatto affettivo. Ieri la parola d'ordine era obbedisci e capirai più tardi, oggi è adesso ti spiego, troviamo il modo di metterci d'accordo. Il troppo permessivismo sembra la nemesi dell'autoritarismo di ieri, ma educare un figlio significa aiutarlo grazie al gioco alternato di autorizzazione e di divieto a trovare il luogo del suo desiderio e ad ancorarsi adesso. E vengo alla chiusa, se la famiglia è l'ostacolo naturale più forte all'individualismo e l'individualismo è ciò che cancella le differenze, la famiglia resta una sfida che dobbiamo affrontare insieme per risvegliarci dall'apatia. E vorrei allora, a mo' di conclusione, quasi per aprire la discussione, elencare tre sfide che ci attendono. La prima è vivere la famiglia nel concreto. Non si difende la famiglia a forza di slogan o di campagne. La realtà della famiglia è sempre imperfetta, ed anzi, proprio questa sua inadeguatezza spinge ciascuno a dare il meglio di sé. Non esiste una famiglia ideale. Come sostiene la professoressa Giaccardi, la famiglia è carne e dunque si può ferire e più si sta vicini più è facile ferirsi e anche infettare. Ma le ferite curate possono guarire e le cicatrici che non si cancellano diventano memoriali di perdono, come l'oblio e la non curanza che ci rendono invece disumani. La seconda sfida è vivere la famiglia non come un nido, ma come un nodo. La famiglia non è una tana in cui rifugiarsi e magari dare origine a quel familismo amorale di cui noi italiani non possiamo essere certo troppo fieri. Senza un'apertura oltre se stessi la famiglia rischia di implodere e disnaturarsi. Praticare l'ospitalità è una maniera possibile per superare quell'autoreferenzialità che spegne la generosità e la fecondità della famiglia. Ciò significa che si dà una stretta correlazione tra famiglia e società in ambo i sensi. L'una sta in piedi se l'altra vive, l'una crolla se l'altra deperisce. E infine la terza sfida è vivere la famiglia come una comunità che narra. In un mondo che vive schiacciato solo sul presente e che misura la sua libertà solo in termini di efficienza, oggi il vero dilemma non è essere o avere, ma è essere o performare. Ecco, in un tale contesto segnato così dalla efficienza c'è bisogno di passare dal contare al raccontare, che aiuta a rideclinare il presente col passato e col futuro. Senza un'architettura del tempo le vite crollano. Si vive per davvero solo quando si riesce a trasmettere qualcosa a qualcuno. In pratica solo se si riesce a passare il testimone. Raccontare è rigenerare il legame tra i tempi e le persone e immettervi una speranza che sia capace di risvegliare dall'apatia in cui giovani e adulti sembrano essere precipitati. La famiglia dunque più che un problema è una grande sfida, la sola però in grado di risvegliarci. Come ha detto di recente Papa Francesco, lo spirito porterà lieto scompiglio nelle famiglie cristiane e la città dell'uomo uscirà dalla sua depressione.